Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su Clash Royale Oggi stile diverso è quello delle live, questa configurazione delle live con la webcam al cerchio Ma va bene lo stesso, non perdiamoci in chiacchiere perché oggi dobbiamo andare ad affrontare un tema incredibile Perché ho trovato girando in rete delle carte nuove, dei nuovi tipi di carte che sono strane Adesso vi piazzo l'immagine tra 3, 2, 1, eccola qua l'immagine Incredibile, poi è abbastanza nuova, ok potrebbe essere tranquillamente un photoshop O magari potrebbero essere tranquillamente le nuove carte che usciranno dopo l'aggiornamento Cioè dopo l'elite, i barbari scelti, dopo la nuova carta e poi la nuova leggendaria Ci potrebbe tranquillamente essere questo nuovo update perché già si sanno alcune cose, delle indiscrezioni magari ci sono state Quindi potrebbe tranquillamente essere, chi lo sa, incredibile, beh magari Comunque lo scopriremo soltanto vivendo telefonate che arrivano a tu, incredibili Bene, che ne so, fatemi sapere la vostra idea in merito a questo Magari potrebbe essere tranquillamente un fake, ve lo dico non E tanto qui ovviamente è un centro di informazioni notevole, neanche la NASA Ma quando registro è basta, è questo il punto Quando registri ti chiama il mondo, se non registri non ti chiama mai nessuno Va bene, è lo stesso, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate di tutta questa vicenda e di tutta questa storia Adesso devo prendere il mio sottomouse perché se no fa un casino, boia incredibile il mouse Però va bene, eccolo qua, tutto il live, a noi piace il bello della diretta Che poi non è diretta ma va bene, è lo stesso, è quasi diretta perché sto video esce praticamente pochissimo dopo che l'ho registrato Oh, interessante, scintilla, attenzione molto interessante, ho il volume a 6000 e mi da fastidio Eh, interessante, potrebbe essere davvero davvero interessante come cosa Ora, non ci perdiamo un attimo, ok, mettiamo questi, mettiamo loro Tanto tu mi tanchi quello, zoppolo, uccidilo, 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 ucciso, molto molto bene Ok, adesso ci dobbiamo mettere dietro qualcosina però perché se no lui, eh, ovviamente mi va a dar fastidio a sti cosi qua Bellissimo il tank che abbiamo fatto, molto molto interessante Il fatto che abbiamo dato tempo al Megasguerro di tirargli anche un paio di hit molto Guardate che bella strike action che abbiamo fatto, incredibili, no? Da zero, ok, ci spaccherà malissimo, porca troia, porca troia, uccidilo, uccidilo, uccidilo Per forza così, per forza così Guardate che è un modo di difesa al mastino, assolutamente sì È assolutamente un gran modo di difesa al mastino Abbiamo speso un botto per difenderci da st'attacco Lui ha speso otto, noi abbiamo speso praticamente dieci Lui sta sopra dell'isir, però ci massacrava con quell'attacco Cioè ci siamo dovuti difendere, lui infatti è pieno dell'isir Ma vabbè, ma ci sta, ci sta un botto Ora adesso non ci dobbiamo soltanto difendere la principessina Se riusciamo a non farcela uccidere non sarebbe male Ca miseria, va bene Lui c'ha la zap straforte, c'ha la zap eccessivamente eccessivamente forte Ora mettere questo qua non a caso perché adesso arrivano i barbari E lui mi rimane a casa E mi fa piacere il fatto che lui sia qui e non possa essere tankato Quindi molto molto bene, uccidiamo anche quest'altro E poi gli buttiamo avanti il minater Il minater Uccidere, 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 uccidere Molto molto bene Ci mettiamo dietro anche questo Ok, ma non è un problema perché noi facciamo una roba del genere Una seguente Così, così Metti la principessa Muove il culo, cazzo Sì, ok, l'ha fatto Eh, ma stiamo perdendo un botto Guardate che quanti danni ci hanno fatto Notevole, 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 notevole Se l'hai giocata bene Noi dovevamo riprenderci un po' dell'Isir E in effetti ci stava come cosa Lui mette la Sparky lì là So che gliela possiamo distruggere Io partirei subito con il C'è la zap straforte Lui c'è la zap tipo al 12 Perché l'avevamo incontrata un'altra zap così forte E in effetti dà abbastanza fastidio Questo lo dobbiamo mettere qui Qui ci dobbiamo mettere questi Porca troia Ok, adesso sono cazzi Sono veramente cazzi ragazzi Sono azzi, sono azzi, sono azzi, sono azzi Uccidere tutti Tutti, uccideli, uccideli Buono, grandi Siamo io Esagero Me ne rendo conto che delle volte esagero Ma è più forte di me Ora mettiamo questi qua dietro Che mi stanno dando abbastanza culo Ok, molto molto bene Mettiamo questo qua fuori E vediamo Madonna che zampo comunque Che c'ho straforte Cazzo Ok Questi li abbiamo spaccati Spacchiamo loro E io direi di ripartire col minatorino Ok, anche se poi fotte sega Perché lui ci fa abbastanza danni Cioè, i danni ce li fa Mettiamo le principesse separate Ok Ok, va bene Mettiamo dietro questi Questa partita sta avvolgendo abbastanza a nostro favore Potrebbe avvolgere a nostro favore Perché alla fine guardate Lui ha tancato Se avesse tancato un altro Sarebbe stato più favorevole a noi Ma Zappali ok Dai così Buono, buono Uccide Sì, sì Abbiamo portato a casa Un grande risultato Prima partita vinta Molto molto bene Grandi ragazzi Notevole Buono Buono Bella partita Prima partita vinta Per noi Una corona e basta Per carità Però Ok, però la dobbiamo tirare giù Non l'abbiamo tirata giù Per pochissimo Io direi di zapparla male E ucciderla Perfetto Così è molto molto buono Ci difendiamo anche dai barbari Che dovrebbero arrivare Se Abbiamo ci siamo difenditi anche dai barbari Guardate che Sta una grande azione questa Perché riusciamo a distruggerli pure i goblinetti Fantastico Lui è sotto delizir E quindi possiamo andare all'attacco Molto molto bene Veramente molto bene Mastino lavico Subito Bam Mastino lavico Allora on dance Veloci Subito Duri massicci incazzati Col mastino lavico Lui ci lancia il gigante là dietro Quindi sta preparando ovviamente un attacco Ma Noi possiamo preparare sicuramente un attacco più alto Perché siamo sopra delizir E Soprattutto Possiamo permetterci di spaccarlo malissimo Quello Per il semplice fatto Che potremmo utilizzare il draghetto infernale Guardate un po' Qui ci mettiamo lo Lei Se mi va a tankare questi Perfetto Guarda No Quelli devi tankare Cazzo devi tankare Quelli Quelli Ti ho detto Quelli Ok Ma va bene lo stesso Guarda che un po' di danni glieli facciamo Guarda che i danni glieli facciamo Botto Non un botto però Un po' glieli abbiamo fatti Allora Che cazzo ci mettiamo qua Questi ce li spacca Mettiamo questi Che danno fastidio Dai Uccidili Non prendere troppi danni Molto molto bene Mettiamo il minatore Tanto lui so che andrà a dargli fastidio Esci di minatore Esci di minatore Esci di minatore Ci sono rimasti C'è rimasto uno sgherrino solo Che gli farà danni sicuramente Perché anche uno sgherro Mena un sacco Guardate un po' Gli abbiamo ridotto la torre Sotto 900 Aspettiamo che si Rigraino i barbari Ci mettiamo subito Dai barbari Veloci So Un hit ce l'hanno data Due hit ce l'ha dato Perché ero un po' in ritardo io Ci può stare Lui comunque si dovrà difendere adesso Dall'attacco dei nostri barbari E mentre abbiamo possibilità Di riprendere Elisir Lui metterà Non so Che ha deciso di abbandonare l'incontro E farsi spezzare una torre Ha quittato praticamente Perché? No non ha quittato Attenzione Zappali Zappali Ok Si è fatto un po' buttare giù una torre Che Non so perché abbia fatto sta cosa Io sto caricando anche un attacco considerevole Contro di lui E sta anche provando Secondo me A metterci Ma cioè A darci fastidio un botto Ora Prima di mettere questi Lui il suo gigante è praticamente morto Non ci dà nessun tipo di problema Morirà malissimo Ok è morto male Qui zappiamo direi E qui ci sta Ah guarda Uh ma questa era una rea di giù in fondo Non me l'ha accorto No 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 Peccato 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 Ha lasciato lo scontro Ma che cazzo sta facendo? Non sto veramente capendo bene di cosa Si è diventato un nuovo Unito di nuovo lo scontro Si ma È messo male il ragazzo Perché boia vacca Io sto andando all'attacco In maniera pesantissima Su di lui Zappalo Zappali E zappali E dai E dai Zappali Si vabbè ma È praticamente vinta a tre stelle Cioè lui Ha perso la connessione secondo me un paio di volte Gli manca un bot Bim Ok era arrivato con uno Tranquillamente Non mi era accorto che mi stavano spaccando la torre di destra Però Ed è in assia La seconda partita Ce la siamo portata a casa Contro CT Abbiamo vinto altre 27 coppe E siamo a 3716 Praticamente record Vediamo un po' se è record 3724 Se vinciamo questa Siamo in record personale Potremmo arrivare anche a 3750 No 750 Difficile ma non impossibile Oh ma tutti che mi partono così Che ansia di Che urto veramente Poi questo c'è la forte Perché E la madonna Mamma mia che ansia Comunque Ho fatto un attaccone Guardate come ci ha distrutto male Questo è a livello 10 Non ci preoccupa Noi facciamo la nostra partita tranquilla E vediamo che cosa viene fuori Se riusciamo a vincere così Lui parte Il partito veramente incazzatissimo Ha usato un botto dell'Isiri Io mi son difeso soltanto con 5 Quindi oggettivamente Lui ne ha speso 2 4 8 Noi ne avevamo spesi 5 Siamo 3 Più di lui Ok Quindi Idea Che lo spacchiamo male Idea Che lo spacchiamo male Mettiamo dietro loro Ci servirà roba Stealth Ok Tu utilizza subito le Brava Utilizza le tue freccette Carino Lui sa anche la cosa Ma che palle Oddio che ansia Ok Zappalo Zappalo ora Zappalo ora Molto molto bene Tentiamo di spaccargli la male Dai ok Ci siamo riusciti Molto molto bene Adesso Gli mettiamo dietro anche il me Il coso Guarda che culo Bene così Bene così Una torre è andata giù subito Mamma mia che spettacolo Sto deck è qualcosa di Veramente eccessivo e clamoroso Gli facciamo anche Importantissimi danni Sulla torre principale Guardate abbiamo Dimezzato praticamente la vita Molto incredibile Siamo bestie Sataniche Questi li mettiamo qua Lui non so che cosa Ha voluto fare con questi barbari Si voleva difendere in qualche modo Pensava di prendere subito Knockout Al primo incontro Dai Ok manca l'ultimo Abbiamo la principessina Che ci sparerà malissimo Anche gli sgherri Vabbè ragazzi Ma questo Cioè ci ha regalato una partita Praticamente Io attacco comunque L'altra torre sempre Non lo so perché Però conviene Dal mio punto Siamo anche sopra Dell'isir un botto Cioè Se l'è giocata malissimo Sta partita lui E noi probabilmente Ci facciamo un record Battiamo il record Quindi attenzione Così Non ho intenzione Alla fine non mi interessa Magari li zappo così Zappali Zappali veloce Buono Ok Aspettiamo che questo Venga tankato Da uno e anche dall'altro Ci mettiamo dietro questo E poi io direi di andare a mettere Il drago infernale Che punta sulla torre Io metto questo di qua Questi li mettiamo In difesa dietro E ci siamo portati a casa Tre stelle Boom Boom Dub Ok Grandi tre stelle Altre tre stelle 28 trofei Siamo in record Ma incredibile 3744 trofei Molto molto bene Ragazzi penso che per questo video Possa essere tutto Fatemi sapere Che cosa ne pensate Questo possibile aggiornamento Se secondo voi è fake Oppure davvero Implementeranno questo nuovo tipo di carte Ci sarà la caccia Le carte Perché potrebbe essere No col fatto che hanno Una nuova carta Magari Boh non lo so Vedete voi Fatemi sapere cosa ne pensate Bene ragazzi Per questo video è tutto Ringrazio Se volete lasciare mi piace Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Se non avete ancora fatto Di condividere il video su Facebook E farmi solo una persona Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook, Instagram e Telegram Ci vediamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi